Si chiama Wilfried Nathan D'Uala, è nato nel vicino anno 2006, è un centrocampista di Victoria United e pensate che è il giocatore più giovane della intera rosa di questa importante squadra calcistica diciamo che la squadra calcistica azzarda dire della nazionale di calcio del Camerun il 13 gennaio infatti inizierà il percorso della Coppa d'Africa e il Camerun sta intraprendendo il suo percorso e Rico Bersong, l'allenatore sui ACT, ha diffuso la lista dei convocati che diciamo così prenderanno parte al torneo di quelli che sono chiamati come i Leoni Indomabili tra i nomi scelti c'è anche quello di Wilfried Nathan D'Uala, anno 2006, centrocampista di Victoria United che a 17 anni soltanto è il giocatore più giovane della rosa in questione tuttavia nei social network molti utenti sono letteralmente scatenati infatti secondo i più è assurdo che si possa trovare un giocatore così giovane che giochi in una nazionale di calcio o comunque in una squadra calcistica e quindi in più ci sono letteralmente scatenati con offese gratuite al gruppo me e ragazzo in questione ma anche alla squadra calcistica in questione io vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi iscrivetevi al mio canale youtube, narratore italiano, cosa ne pensate? scrivetelo, fatelo sapere ciao a tutti e una buona giornata